In quel 5 marzo del 2015 Sansepolcro si svegliò ferita, schiaffeggiata da una vera e propria tempesta che la mise in ginocchio. Ora arrivano gli indennizi e il comune di Sansepolcro a comunicarlo. In seguito infatti alla delibera del Consiglio dei Ministri pubblicata lo scorso 6 agosto in Gazzetta Ufficiale, la cittadinanza può presentare domanda di indennizzo presso gli uffici comunali per le calamità naturali che si sono verificate tra il 2013 e il 2015 su tutto il territorio regionale. Possono presentare richiesta di indennizzo tutti quei soggetti privati che hanno subito segnalato i danni con le schede B, ricognizione del fabbisogno per il ripristino del patrimonio edilizio privato. L'amministrazione comunale dunque invita tutti a raccogliere e a predisporre la documentazione necessaria che potrà essere presentata presso il comune entro e non oltre il 30 settembre 2016.